Lunedì, lunedì 30 settembre, buongiorno a tutti, ben ritrovati, ben ritrovati qui sulle frequenze e sui beat digitali di Crystal Radio. Questo è Good Morning Milano, ultimo lunedì di settembre, inizia il mese di ottobre praticamente, questa è già la prima settimana di ottobre. Oggi diciamo è un'anteprima, è come un trailer di quello che succederà nel prossimo mese. Comunque siamo qui, siamo qui fino alle 9 come sempre con Good Morning Milano per raccontarvi un po' tutto quello che succede a Milano e città metropolitana. 331-78-535-55, il nostro numero di Whatsapp pronto ad accogliere le vostre condivisioni, i vostri messaggi, cosa farete oggi, cosa avete fatto nel weekend. Insomma arriviamo oggi lunedì, è il giorno in cui possiamo raccontare tutto quello che è successo nel weekend. Se avete ascoltato o meno i consigli che Eri Bici ha dato venerdì ad esempio, o se avete trovato altre cose interessanti da fare in città o in giro per la Lombardia. Insomma qua noi siamo 331-78-535-555. Questo è il nostro numero di Whatsapp, grazie mille ad Alberto che ci scrive proprio in questo istante, dice un saluto a tutti gli amici in ascolto di Crystal Radio Milano. Ebbene sì, tanti siete in ascolto, tanti ogni giorno ci scrivete e soprattutto non è che ascoltate solo me la mattina, ma ascoltate Crystal Radio tutto il giorno perché poi dopo c'è Ambroggio Curti, poi c'è esempio oggi lunedì. Oggi lunedì c'è il tacchino curioso dopo Ambroggio Curti, poi invece c'è cose a caso nel pomeriggio, oppure K-Day dalle 10 a mezzogiorno dal martedì al venerdì. Insomma ci sono tantissimi programmi che potete sempre ascoltare qui su Crystal Radio e potete farlo prima che finisca a settembre, ma poi potete farlo anche ottobre volendo, è sempre qui su Crystal Radio. I Green Day con Wake Me Up When September Ends. E ci siamo svegliati ieri invece con una brutta notizia, parlo di Crystal Radio ma non solo, nel senso che a volte si utilizza la parola famiglia un po' così, abusandone spesso, soprattutto quando si parla dei colleghi, quando si parla delle situazioni appunto con magari le radio o il gruppo del chissà cosa. Ecco no, in questo caso veramente però Crystal Radio spesso e volentieri si comporta come una famiglia ed è una famiglia a tutti gli effetti. Di questa famiglia faceva parte il maestro Polli che ci ha lasciato questo weekend e ha lasciato un grande vuoto non solo all'interno della radio ma soprattutto con la sua grande musica. Era un grande maestro e arrivano già i messaggi, grazie al messaggio di Alberto, vorrei leggere quello un po' per riassumere tutto il nostro, la nostra vicinanza soprattutto con la famiglia e soprattutto la stima che avevamo per questo grande maestro. Questa mattina, dice Alberto appunto, questa mattina il mio pensiero va al maestro Marco Polli, la sua musica ora suona alta. Beh, grande musica davvero, un persona molto molto interessante, un maestro, un maestro di musica e come spesso sapete poi insomma chi insegna la musica insegna anche tanto altro. La musica tutti i giorni ci insegna non solo a tenere il ritmo, la musica non ci insegna solo a essere spensierati o tristi perché insomma la musica è quello che riesce ad aiutarci a fare, a vivere le nostre emozioni. Beh, non solo quello, la musica spesso e volentieri è quasi sempre così quando poi è buona musica, ci aiuta a vivere, ci aiuta e ci insegna, ci insegna il forse, proprio oserei dire, e volo alto anche io in questo caso, il significato della vita. La musica, la musica che parte, che passa da Cristal Radio, che costruiamo tutti i giorni qui grazie all'ufficio programmazione, grazie a tante persone che collaborano con Cristal Radio, beh ecco, questo è quello che possiamo fare tutti i giorni qui su queste frequenze e sui siti. Comunque, continuiamo con un po' di musica, continuiamo con una nuova, è appena arrivata diciamo, quindi è bello anche sentire le novità, è bello sapere che degli artisti, dei grandi artisti come ad esempio Cesare Cremolini, così a settembre ti fanno uscire una canzone come quella che stiamo per andare ad ascoltare. Cesare Cremolini, ora che non ho più te. Cesare Cremolini, ora che non ho più te, il nuovo singolo di Cremolini, già uscite i biglietti, le date per i concerti del prossimo anno, non ho capito alla fine se sono riuscito a prenderlo o no. Nel senso che ho delegato altri, non ho capito se alla fine abbiamo questi biglietti o no, non ho capito. Vi racconto un piccolo aneddoto personale e familiare, due o tre anni fa, che ho fatto un bel concerto qua a San Siro, mi è stato chiesto, vogliamo andare al concerto? No raga, io non ci vengo, a Cremolini, ma perché ci devo venire? Mi sono pentito tantissimo, perché veramente ho poi visto, sentito, ascoltato pezzi di quel concerto e davvero è qualcosa di molto molto emozionante ed è uno che veramente non si... c'è da tutto, da tutto, da tutto, non si... non mette niente in saccozza, c'è proprio tutto, si dà tutto completamente, c'è una roba che non si risparmia per nulla e quindi davvero spero che si... dovremmo avercela fatta a prendere i biglietti, mi ricordo alla fine. Abbiamo fatto, no? Comunque, 2025 stiamo parlando, comunque è stata 2025, cioè siamo già qua. Mi ricordo... beh, ragazzi, mi ricordo che Vasco ha fatto uscire i biglietti al 2025 durante il tour del 2024, cioè era... infatti a un certo punto si chiama più... ho preso i biglietti per Vasco? Ah, vai domani? No, vado a fare un anno e tre giorni, cioè era una roba così, no? Quindi è così. Anche Lisa, Lisa ha fatto uscire i biglietti praticamente a luglio per il luglio dell'anno dopo, insomma. Ormai è così, di anno in anno, immaginate ovviamente tutto quello che poi c'è dietro, la costruzione che c'è dietro, immagino anche la pressione che poi c'è dietro questi artisti che stanno un anno prima e dire, Sai che... cosa fai? Tipo, no, Beatrice, chiedo a Beatrice, Beatrice, cosa farai il 14 luglio del 2025? Boh, non lo sai, non ne hai la minima idea. Soprattutto non hai idea che ci sono 80.000 persone che ti aspettono in uno stadio. Ecco, quello che invece succede, non so, ad Elisa, Cremonini appunto in questo caso, a Vasco sicuramente, cioè... Non deve essere semplicissimo, quindi capisco se poi qualcuno non ce la fa a tenere quei ritmi e qualcuno chiede anche che, insomma, la carriera del musicista, del cantante, della rock star, quasi in questo senso, sia comunque tutelata anche dal punto di vista della salute mentale perché non deve essere praticamente facile rimanere collegati alla realtà. Grazie al WhatsApp che mi è arrivato sul mio telefono personale che dice Sì, ce l'abbiamo fatta dai biglietti. Ok, grazie mille, per quanto conferma che i biglietti ce li abbiamo. Invece ho scoperto una cosa che, vedete, io sono attento conoscitore della città di Milano ma a volte mi sfuggono delle piccole piccolezze per me, non per quelli che ci abitano lì. Ad esempio, io davo per scontato che il lavaggio della strada di Amsa a Milano fosse ormai come è nella mia via. Cioè, una volta dovevo spostare la macchina perché passavano a lavare la strada. Da un bel po' di anni oramai, invece, non c'è bisogno di spostarlo niente. Nel senso che passano, hanno un sistema che lava sotto le macchine, mi lavano anche le ruote ogni tanto, bene, grazie. E quindi la macchina lì. Io davo per scontato che fosse così in tutta la città. E invece non è così. Quindi chiedo scusa a tutti quelli che finora ho pensato e dato per scontato. Anzi, leggiamo da Repubblica Milano. Lavaggio stradale. Amsa amplia il servizio di spazzamento globale. Altri 100 chilometri di vie senza più divieti. Da Piazzale d'Agosta a Viale Zara, da Palmanova a San Martini, poi ancora Lotto, Pisani di Amicis. Così ridurremo il divieto di sosta del 48%. Beh, finalmente, nel senso, una bella notizia sta a significare che comunque ci sarà qualcuno ancora che invece dovrà spostare la macchina quando c'è da lavare la strada. Vi giuro, io l'ho sempre dato per scontato che in realtà fosse così in tutta la città. E invece scopro che ci sono ancora tante vie dove bisogna spostare l'auto. ed è una roba veramente complicata. Perché devi ricordarti che, oh, è giovedì sera, no, passano quelli della lavaggio, aspetta che sposto la macchina. E tutti quelli della via lo fanno in quello stesso tempo. Cioè, quindi c'è una transumanza di auto e persone che non sanno dove andare. Lì il tema è molto, molto più ampio. È il tema dell'utilizzo delle strade, il tema del quante macchine ci sono in una città come Milano, il tema dei garage, dei box, di quanto costa avere un garage o un box a Milano. E quindi, insomma, è molto, molto più ampio. Però adesso è finalmente 100 chilometri in più di vie senza divieti, il 48% di riduzione dei divieti di sosta, grazie a questa nuova opzione, appunto, del lavaggio stradale, che AMSA amplia il servizio di spazzamento globale. L'ora di Anna Berte, non sono una signora, le 7.37 minuti qui su Crystal Radio. Good morning Milano. Grazie a tutti per i Whatsapp che state scrivendo al 331-78-535-55. Ne vado a leggere uno che ha a che fare con la canzone che abbiamo soltanto poco, non questa, quella di prima, no? Le Four Non Blondes, le Four Non Blondes, le Quattro Non Bionde, con Whatsapp, che dice appunto What's Going On? Dice, no, cosa sta succedendo? Beh, quello che ci ha chiesto, e ci ha scritto anche Adriana, che ci ha scritto anche io questa mattina, quando è suonata la sveglia, mi sono chiesta che cosa stesse succedendo. una sorta di What's Going On? E beh, invece, Adriana, devi semplicemente alzarti e uscire, perché ogni mattina un milanese si alza e sa che dovrà correre, ed è questo che fa tutti quanti, quindi anche voi che state andando al lavoro in questo istante, mi raccomando, correte ma con parsimonia, cioè soprattutto se siete in macchina non correte troppo. C'è anche la idea che tanto anche se volete correre, non è che si può correre neanche, perché con tutto il traffico che c'è non è che, non è che si può andare molto in giro, almeno per fortuna, in realtà, da quel punto di vista. Comunque, invece, notizie che arrivano da Repubblica Milano, o meglio, questa qui sarebbe una notizia che, questa roba qui, secondo me, proprio finisce tranquillamente negli eventi della settimana a cui non andrebbe ribì, perché dice così Repubblica, riaprono i pumpkin patch della Lombardia, da Milano al Pavese e alla Bergamasca, ecco dove trovare la zucca perfetta. Proposte anche tante attività a tema, credo a tema zucca, mi immagino, aspettando i festeggiamenti di Halloween, quando ho una poveretta, io la conosco anche tra me, questa è Lucia Landoni di Repubblica, la conosco, cioè una bravissima giornalista, che ogni tanto poveretta però gli fanno scrivere degli articoli, che mi immagino, cosa posso dire su delle zucche che la gente va a prendere in mezzo ai campi, e invece, essendo una brava giornalista, è riuscita a fare un gran bel servizio, servizio a Milano ad esempio, in porto due esempi, c'è il campo di Federica, a Villanova, che è nerviano, qui dalle parti di Rom, ovest Milano per intenderci, è tra i più popolari, che mi piace anche perché parliamo del campo di Federica, perché secondo Repubblica Milano, è tra i più popolari e instagrammati anche per le sue numerose visite, i personaggi famosi, negli anni, perché Federica è anni che porta avanti questa tradizione del campo di zucche, sono passati Ferragnez ad esempio, ma anche i calciatori, adesso allora sì che vado lì, Niccolò Barella, ah bene, Danilo D'Ambrosio del Monza, ah ok, ma anche Spera e Basta ad esempio, adesso andiamo tutti lì a vedere, di prendere una zucca e di zucca e basta, perfetto, questo è il campo di Federica a Villanova, ma se volete c'è anche a San Vito, ad esempio San Vito che è gaggiano, quindi zona più sud-ovest adesso, portiamo un po' più verso i suoi navigli, dove si coltivano i mirtili di San Vito, così si chiama il luogo, e invece in autunno appunto diventa un pumpkin patch che offre l'opportunità di raccogliere e decorare la propria zucca, divertirsi nel parco giochi agricolo, tuffarsi nella piscina di mais, perdersi nel labirinto del campo di mais e dare la caccia agli spaventapasseri, gustando il country food offerto grazie alla collaborazione con il vicino di turismo Cascina Resta, quindi i mirtili di San Vito, questa ad esempio è una, ma ce ne sono tante altre, tra parentesi, ho capito che c'è tutto, fai tra le mangiare la zucca, in realtà non è che la vai a prendere per mangiarla, tra parentesi, io ieri sera la sono fatta al forno, buona, molto buona, molto buona devo dire, zucca al forno, ricetta del mio amico Francesco De Molfetta, molto semplice, prendi la zucca, la taglia a dadini, la butti su una teglia, gli metti su un po' d'olio, un po' di rosmarino, poi quel che vuoi, ci puoi mettere aglio, spezie, volendo, lui la faceva anche con il curry, ci puoi mettere la curcuma, con le robe lì, metti in forno a 180 gradi, una mezz'oretta, vi assicuro che è una bontà. Damiano David, Silver Lines, se avete riconosciuto la voce, è proprio lui Damiano De Maleskin, è quello lì, è il singolo, posso dire, il singolo, poco singolo però, nel senso che c'è, bella come canzone, se la metti in mezzo a un album, me l'ascolto, come singolo, mi ha fatto un po' specie, la scelta di questa uscita, tra parentesi, piccola nota a margine, a noi le canzoni radio, arrivano dalle varie case discografiche, che ci mandano, appunto, famose cartoline, vengono chiamate, questa è arrivata invece direttamente, cioè non Damiano, che ha mandato un whatsapp, ha detto eccomi la canzone, poi è arrivata direttamente, dall'entourage di Damiano, nel senso, non è arrivata tramite, non so se è Universal, o chi per esso, è la sua case discografica, quindi stanno facendo veramente, un'operazione molto diretta, per il lancio di questo, della carriera, o almeno di questo disco, da solista, di Damiano, mi fa specie però, alla scelta di questa canzone, non me l'aspettavo così, bella, la sua voce si sente tutta, e molto bene, però, vabbè, torniamo invece sulle notizie, che arrivano da Milano, perché c'è un mistero, un mistero, un giallo, che ci sta attanagliando, non so più niente, fino a stamattina, io pensate quanto ma attanaglia, comunque, a Milano, il mistero dei cartelli sulle auto, contro la sosta selvaggia, dei cartelli, con scritto questo, non è un parcheggio, oppure, il marciapiede, è per le persone, è successo, in via Pantaleoni, e al momento, non si conosce ancora, chi è l'identità, appunto, di chi ha scritto, e lasciato sulle auto, questi cartelli, devo dire, che sui social, però, c'è già i suoi, i suoi fan, e sì, perché i testi, sono espressioni, di semplice buonsenso, dice Repubblica, constatazioni di ovvietà, che però, non sembrano essere, sufficientemente chiare, a molti automobilisti, incivili, così, un misterioso autore, o autrice, non si sa, ha deciso, di ribadire con forza, scrivendole, a caratteri cubitali, con pennarelli colorati, su dei cartelli, piazzati, sul parabrezza, delle auto, posteggiate, Pantaleoni, zona nord di Milano, ci sono anche le foto, appunto, varie macchine, posteggiate sul marciapiede, e c'è scritto, semplicemente, un foglio di carta, bello grosso, quasi un rotolo, credo sia stato srotolato così, con scritto, non è un parcheggio, punto, è neanche incollato, appoggiato, no, sul parabrezza, bello grosso, nel senso che non puoi non vederlo, quando ti vai a prendere la macchina, oppure, auto, sul marciapiede, persone in strada, c'è scritto anche così, nel senso che porta, appunto, a far capire, insomma, si sta muovendo, muovendo qualcosa, via Pantaleoni, zona nord di Milano, si sta muovendo qualcosa, nella coscienza, forse, delle persone, che vivono la città, senza auto, sono sempre di più, perché attenzione, noi siamo sì, una città da un milione e quattrocentomila abitanti, che diventano quasi tre milioni, durante le settimane, per chi viene a fare, le sue attività a Milano, i famosi city users, ma di quel milione e quattrocentomila abitanti, residenti in città, tantissimi ormai non hanno più l'auto, ne hanno solo una, o magari la tengono nel box, perché comunque, insomma, adesso per quanto possiamo dire, peste e corna del trasporto pubblico, in realtà a Milano comunque ci si muove, bene e facilmente, e questo porta, a dover fare magari dei pezzi a piedi, a dover fare dei pezzi, con il monopattino, a dover fare dei pezzi in bicicletta, e quindi cominciamo a capire, che la città non è solo, di chi ha l'automobile, quindi anche lì, bisogna capire adesso come fare a convivere, perché non possiamo neanche dire, che nessuno proprio sa più utilizzare l'automobile, perché c'è gente che giustamente, l'automobile ha bisogno di farlo, perché deve spostarsi magari, leggermente fuori a Milano, per andare a lavorare, perché deve spostarsi, ad esempio c'è il grosso problema, dello spostarsi, sulla periferia, da periferia a periferia, è difficile i collegamenti della città, ad esempio questa mattina parlavamo, da San Siro per andare a Porta Romana, ad esempio, devi fare un giro un po' lungo, passare in centro, per poi dopo ritornare fuori, ad esempio con la metropolitana, e insomma, non è così semplice, quindi la convivenza, come sarà la Milano della convivenza, da pedoni, ciclisti ed automobilisti, e solo per citarne alcuni, perché poi ci sono i bambini, ci sono i monopattini, insomma ci sono tante tante altre categorie, di cui poi alla fine facciamo tutti quanti, parte. E gli Abba con Vulevu, alle 7.52 minuti, qui su Crystal Radio, Good Morning Milano, al 331-78-535-555, arriva nei Whatsapp, soprattutto sulla canzone di Damiano David, che ha diviso il nostro pubblico, evidentemente appunto, perché c'è chi ci scrive, ad esempio, che sound da colonna sonora ha, questa canzone di Damiano David, effettivamente sembra un po' una colonna sonora di un film, quindi insomma, ha portato la nostra ascoltatrice, magari verso l'idi, così, pensierati, nel pensare ad un film, dall'altra parte invece, c'è chi ci scrive, posso dire, bella eh, ma il lunedì ci serve un po' di carica, effettivamente, forse vedete, è l'Iket Nunc che fa differenza, cioè il qui adesso, come vi vivete in quell'istante, quella canzone, c'è chi ha bisogno di carica e quindi non riesce ad apprezzarla, c'è chi invece magari si sta godendo le prime ore della mattina e pensa al film della sua giornata e dice, beh insomma, potrebbe essere tranquillamente la colonna sonora di un film, questa nuova canzone di Damiano David. è questo che è divisivo, è così, di sicuro invece non è divisivo gli ABBA che insomma vi danno invece la carica giusta per iniziare al meglio la giornata. Sono le 7 e 53, stiamo per andare in pausa perché fra poco c'è il giornale radio, poi torniamo con il Cristalistri e poi nella seconda parte avremo anche Filippo Poletti con il suo buon lavoro perché oggi è lunedì e quindi giustamente sentiremo le notizie del buon lavoro di Filippo Poletti. Insomma, tante le cose da dirci, tanti gli articoli ancora da leggere qui davanti, tante le notizie che arrivano ogni giorno tramite i giornali che leggiamo tutte le mattine, Repubblica, Corriere, Me Now Today, Me Tomorrow, ci sono tantissimi i giornali, tra parentesi vi ricordo anche i giornali di quartiere che adesso inizieremo anche a leggere anche quelli, i giornali di zona sono tanti, sono interessanti e soprattutto vi raccontano la vostra zona. Sono dei mensili, uno su tutti, il 18 ad esempio, oppure ABC oppure che ne so, ce ne sono tanti, tanti altri, però dopo semmai zona 4 è un altro importante. Insomma, queste sono le notizie che leggete e ascolterete qui a Good Morning Milano. e White Snake con Is This Love Eat This Love alle 8.09 era la Crystal History ed è in direttamente nel 1988. Questo appunto è il Crystal History, ogni ora vi ricordo appunto la canzone dal passato che vi racconta un po' la musica, no? così. Comunque, allora, torniamo sulla città di Milano perché fra poco il 12 d'ottobre apre la M4 e si cambierà un po', tra cui ad esempio dobbiamo dire addio alla linea 94, appunto, leggiamo da Repubblica Milano, addio alla linea 94 con l'apertura della nuova M4. Torna invece la vecchia Circonvalla con i bus della 96 e 97. i percorsi dei mezzi superficiativamente interessati dalla Blu subiranno variazioni e torna dopo più di 40 anni, pensate, la circolare della cerchia dei navigli. Abbiamo visto che in realtà ci sono poche, per fortuna, manomissioni di linee, per me la dire, no? Ci sono poche linee che vengono limitate o risigate via, tagliate via alcune fermate, ma anzi, soprattutto, vengono rimodellate, quello sì, e vengono reintrodotte come ad esempio appunto questa cerchia nella circolare della cerchia dei navigli che si chiamerà appunto 96 e 97, avrà delle frequenze di 10 minuti e le due circolari, appunto, una destra e una sinistra, copriranno tutta la cerchia con capolinea a Cadona, via Paleocca, Palino, fa il giro con l'intorno e poi dopo riparte e fa tutta, tutta quanta la cerchia interna. Insomma, un bel ritorno utile, comodo, che oltretutto unirà tante fermate alla metro perché a quel punto toccherà la gialla, toccherà la blu, toccherà poi la rossa più a nord verso San Babila, insomma, tante le... interessante, poi la verde-rossa in Cadorna, la verde-Sant'Ambrogio, insomma, un bel giro. Quindi, la linea 96 e la linea 97, insomma, meno male, un bel ritorno e quando, insomma, le cose funzionano siamo ben contenti di dare le notizie. Le altre linee non vengono intercrate. Per adesso non c'è un caso 73, cosa che invece era successa con l'apertura del primo tratto M4 e la rimodulazione della linea 73 dove, insomma, molti hanno, sono scesi in piazza a protestare perché erano, allora, era stato rimodellato in una maniera per cui però dava un po' più di disagio a delle zone che sì, coperte dalla metropolitana, però non erano poi così utili, così ben coperte in realtà dalla metropolitana. quindi poi adesso vedremo con l'apertura della M4 su tutta la linea se si riuscirà a ritornare, insomma, ad avere anche fino adesso la M4 aveva un'utilità diciamo ridotta, ti portava fino a San Babila, ok? Adesso che invece verrà unita a tutta la parte sud di Milano che quindi arriverà fino a San Cristoforo e da San Cristoforo fino a Linate passando da importanti snodi forse appunto si potrà per ripensare a una rimodulazione più utile a tutta la città e ad esempio anche la reintroduzione di questa circomballa della cerchia di Naviglia nel 96-97 fa capire che insomma sempre di più diventiamo una città attenta al trasporto pubblico. Sappiamo che insomma non è facile non è per nulla facile gestire il trasporto pubblico in una città come Milano non è per nulla facile gestire una situazione economica come quello in cui viviamo adesso però insomma cerchiamo di capire quanto è importante anche utilizzarlo e quindi magari insomma ogni tanto prendiamo un po' di più i mezzi pubblici che poi insomma le statistiche i numeri non sono solo lasciate così sono statistiche e numeri che poi vengono prese in considerazione quando si fanno gli investimenti quindi se prendiamo di più i mezzi magari arriveranno anche un po' più di soldi nelle casse di chi poi questi mezzi deve farli funzionare deve costruire nuove linee deve gestirli snap rhythm is dancer 8 e 16 minuto crystal radio good morning milano è arrivata poco fa in redazione una notizia diciamo shock sicuramente per chi segue il calcio e per chi vive le curve milanesi del milano e dell'inter le curve milanesi la curva nord e la curva sud perché sono stati arrestati lego da repubblica milano ndrangheta in curva 19 arresti per il patto di affari sporchi tra gli ultradi inter e milan il jeep dice san siro terra sottratta alla legalità questa mattina all'alba è scattata lego da corriere della sera questa mattina all'alba è scattata una vasta operazione all'alba di lunedì a meno di un mese dall'omicidio di antonio bellocco alla curva nera azzura anche l'aggravante di favorire l'andrangheta tra i rossoneri fermati anche a gag e rosiello i bodyguard di fedez protagonisti del pestaggio del personal trainer arrestati appunto i capi ultra di inter e milan nelle curve di san siro un'associazione a delinquere estorsione sui biglietti pizzo sui parcheggi e risse tutti i giornali stanno appunto aprendo con queste notizie anche milano today arrestati i capi ultra di inter e milan azzerate le curve del meazza maxi operazione della polizia in manette diversi capi della nord e della sud scacco matto alle curve maxi operazione della polizia che all'alba di oggi arrestato 19 persone ultra della curva nord e della curva sud del meazza in manette appunto nell'ambito di un'indagine che ipotizza una doppia associazione a delinquere sono finiti diversi esponenti dei direttivi del secondo anello verde e blu appunto che sono gli anelli in cui c'è le due curve al centro dell'inchiesta coordinata dalla direzione statuale antimafia della procura della repubblica di milano ci sarebbero gli affari collegati a san siro un business fatto di biglietti rivenduti a prezzi maggiorati parcheggi merchandising e vendita di bibite all'interno dello stadio che avrebbe visto le due fazioni agire in autonomia oppure agire in autonomia o spastire questi sono i problemi che poi sbagliano gli articoli sbagliano i rifusi comunque non si capisce se hanno fatto in autonomia o si sono spartite da torta comunque con la mai nascosta pace tra cugini ultra che sarebbe servita anche per permettere alle curve di fare soldi curve che adesso sono state praticamente azzerate questo è quello che leggiamo appunto da Milano da Milano Today si ipotizza appunto che dietro a questa pace delle due curve che ormai da anni che esiste ci sia invece appunto un accordo quasi oserei dire commerciale a questo punto anzi di associazione a delinquere quello che sono le ipotesi appunto di reato mosse dal GIP e che appunto ha fatto scattare questa mattina all'alba 19 arresti sono stati colpiti i leader ufficiali della Nord come Marco Ferdigo insieme al padre Gianfranco il nuovo capo pro tempo Renato Bosetti e altri appartenenti al direttivo quali Matteo Ciac Norrito e Mauro Nepi ma anche il 54enne Pino Caminiti insomma tanti sono gli altri c'è veramente una lista di nomi la contabile Deborah Turiello poi Francesco Buzzeron Tagliato tutti i nomi che potete trovare su Repubblica Milano e quindi sono appunto tutti i nomi che sono stati appunto fermati o sono comunque nell'indagine vi invito ad andare a leggere meglio l'articolo così che possiate capire tutti ci sono nomi anche dell'altra dell'altra curva sono veramente una lista tra prendesi una lista veramente di nomi pazzeschi tra cui appunto quelli diciamo prima di Agag Bonissi Romano tantissimi poi con anche i nomi di battaglia diciamo Cristiano Rosiello che appunto è la guardia del corpo di Fedez Alessandro Schreck Stico insomma tanti tanti nomi che potete trovare qui sui vari articoli di Repubblica di Corriere ma tutti i giornali stanno scrivendo seguiremo la notizia nel divenire prima poi appunto usciranno altre informazioni ve la daremo sicuramente un momento molto molto complicato e difficile per le squadre milanesi in un ambito insomma complicato come quello dello Stati di San Siro perché si amplia ancora di più qui il discorso e il bunker 44 con estate 80 continueremo poi a cercare a leggere bene le notizie che stanno arrivando in redazione su quello che è successo questa mattina ripeto arrestati 19 ultra 19 capi ultra più o meno delle due curve di Milan e di Inter nelle curve di San Siro un'associazione a delinquere il GIP dice San Siro terra sottratta alla legalità continueremo a seguire questa notizia perché insomma è una notizia che davvero fa tremare la città questa mattina il 30 di settembre appunto questa mattina all'alba sono avvenuti tutti questi arresti sono tanti e insomma anche le ipotesi di ratto sono molto 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 gravi è lunedì invece il lunedì di solito si parte con una nuova settimana e si inizia una nuova settimana lavorativa a meno di turni strani che uno fa durante la settimana diciamo che lunedì è il giorno in cui si parte e si ricomincia a lavorare e allora la cosa migliore da fare è augurare un buon lavoro a tutti quanti ma soprattutto ascoltare magari le buone notizie che arrivano dal mondo del lavoro perché troppo spesso pensiamo che il mondo del lavoro sia un brutto posto in cui andare o ci siano solo cose brutte da raccontare no per fortuna il mondo del lavoro è un mondo variegato ci sono anche tante tante belle cose da raccontare tante belle notizie che arrivano grazie a chi? grazie a Filippo Poletti top voice di linkedin che ogni lunedì appunto qui dalle frequenze di crystal radio ci augura il buon lavoro ma che ogni giorno su linkedin racconta tutto quello che è il mondo del lavoro e tutte le belle notizie e le belle storie che lui trova e quindi non mi resta che dire buon lavoro a te Filippo Poletti buon lavoro a tutti la prima parola della settimana è solidarietà il protagonista è nonno Scerpa siamo nel Fornivese a Modigliana un comune sommerso dal fango dell'alluvione nonno Scerpa vede che l'orto è pieno di fango e vuole toglierlo ma non sa come fare da sola allora nella sua mente chiede aiuto a suo papà scomparso nel 1946 Babbo dammi una mano in suo soccorso arrivano tanti volontari anzi come la chiama lui una foresta di mani bellissima storia di solidarietà è l'Italia che ci piace appunto l'Italia solidale che unisce le mani la seconda parola chiave della settimana è inclusività customer care inclusivo dove a Ikea grazie al nuovo servizio di video assistenza in lingua dei segni italiana dedicato a chi alle persone con problemi di udito gli esperti di Ikea e gli interpreti del servizio TELLIS saranno a disposizione da remoto per supportare i clienti che hanno appunto problemi di udito bell'esempio di come sia possibile superare le barriere la terza e ultima parola chiave della settimana è creatività sono Margherita ho nove anni e mezzo e mangio sempre la pasta proprio oggi pensavo di crearne un nuovo tipo i tappi di pennarello inizia così la lettera di una bambina di Genova indirizzata alla Barilla all'origine un sogno quello di avere una pasta che trattenga più sugo a risponderle è stato l'amministratore delegato di Barilla Gianluca di Tondo cara Margherita scritta in una lettera ti ringrazio per la bellissima idea ho passato la sfida ai miei colleghi che si occupano di ideare nuovi formati dopo qualche settimana la sorpresa direttamente a casa di Margherita a Genova ossia una scatola con la nuova tipologia di pasta dunque dalla fantasia di Margherita alla realtà e allora buon buon lavoro a tutti e buon ottobre a tutti Sophie and the Giants shut up and dance ben tornati qui su Crystal Radio a Good Morning Milano ultima mezz'ora di trasmissione ultime notizie che andiamo a leggere proprio dai giornali che abbiamo qui davanti come ad esempio notizia importante perché il vaccino anti-influenziale a Milano via alle prenotazioni per soggetti fragili su Repubblica Milano c'è la guida appunto per gli appuntamenti e anche per l'anti-covid insieme si può fare tutto quanto l'obiettivo è riuscire a coprire e proteggere le cosiddette categorie a rischio dal 4 novembre poi vaccinazione gratis sarà offerta anche a tutta la popolazione parliamo appunto della anti-influenzale sul portale della regione sarà possibile prenotare da oggi proprio quindi quando partiranno appunto le prime sommestrazioni negli ospedali nelle case di riproso per i soggetti più fragili mentre i medici di famiglia e i pedirati potranno iniziare a ritirare le fiale per i loro pazienti nelle farmacie per poi quindi dare via appunto alle iniezioni dalla settimana prossima parte quindi la campagna di vaccinazione anti-influenziale gratis in Lombardia obiettivo riuscire a coprire e proteggere dall'influenza stagionale innanzitutto le cosiddette categorie a rischio ovvero persone dai 60 anni in su i bambini dai 6 mesi in poi e i ragazzi fino a 17 anni le donne in gravidanza i malati cronici i familiari di persone immunodepresse e poi gli operatori sanitari le forze dell'ordine e il personale scolastico tutto questo poi dal 4 novembre invece si apriranno poi le vaccinazioni gratis per tutta la popolazione target ideale il target ideale fissato dal ministerio sarebbe quello di arrivare a vaccinare il 95% delle persone a rischio non la popolazione a rischio ok considerando però che l'anno scorso la copertura si è affermata poco sopra la storia del 50% quindi il primo obiettivo è allora quello di riuscire a vaccinare almeno il 75% delle persone appunto fragili operazione che inizia questi giorni appunto quindi se avete bisogno e volete sapere come funziona portale della regione Lombardia oppure ovviamente chiedendo e sentendo il proprio medico di base che potrà da adesso fare appunto le somministrazioni del vaccino anti-influenzale doveva semplicemente voi dovete prenotare la fiala diciamo lui poi va in farmacia la prende la porta in studio e ve la fa lì il concetto è questo è molto semplice la cosa quindi fate una chiamata al vostro medico di base e oltretutto tenete presente che per gli over 65 oltre al vaccino influenzale potranno anche essere somministrati vaccini per pneumococco ed herpes zoster nonché per difterite tetano per tosse nel caso appunto delle donne invece incinta per quanto riguarda i vaccini anti-covid la campagna di copertura contro il covid-2 il SARS-CoV-2 non si è mai fermata anche se è comunque andata appunto un po' a rilento negli ultimi anni il vaccino oltretutto aggiornato al momento la variante Omnicron JN1 verrà proposto come con quello anti-influenzale insieme quindi si può fare anche il doppio vaccino piccolo parte porto l'esempio di casa mia mio padre l'anno scorso tutti insieme ne ha fatti già che c'era ne ha fatte uno e due va bene tutto questo per avere come dicono molti vari chip e antenne 5G installate nel sangue ecco vi invito anzi andare a vedere su Netflix un interessante documentario What's Next il secondo episodio protagonista del documentario è Bill Gates che racconta varie vicissitudini il secondo episodio parla proprio di tutto quello che c'è dietro alla grande bufala del 5G del mettere i chip sotto pelle alla grande cospirazione ai complottisti verso Bill Gates e verso quel mondo lì What's Next Sia insieme a Sean Paul Chip Trills continuiamo a leggere invece notizie che arrivano sui giornali perché notizia di questi giorni appunto che leggo da Repubblica ma c'è anche su Corriere anche sul giorno ovunque praticamente Milanzi leggo dal giorno il giorno Milano Milano sversamento clandestino il parco delle cave barriere per arginare la macchia misteriosa sembrano essere idrocarburi Milano complesso intervento di munifica nello specchio d'acqua delle aree verde cittadine appunto parco delle cave stiamo parlando zona Baggio dove ignoti hanno rilasciato idrocarburi e altri materiali chimico i tecnici della città metropolitana di Milano sono al lavoro da giovedì pensate sulle sponde del parco delle cave di Milano per contenere e avviare un intervento di munifica di idrocarburi e altro materiale chimico sversati da ignoti nello specchio d'acqua continuano quindi anche in questo weekend è continuato e anche oggi quindi attenzione ad andare nella zona attenzione ad avvicinarsi l'acqua non dovete toccarla mai nel senso che non è balneabile quindi non dovete fare il baglio nella cave non fate nulla di genere ma nel senso state comunque un po' magari lontani perché sono comunque idrocarburi sono comunque sostanze chimiche sono state arginate quindi non dovrebbero contaminare il resto delle acque e a loro volta tutto il sistema di cave che comunque sono collegate tra di loro quindi comunque il rischio è veramente veramente grosso e soprattutto il rischio di contaminare l'area naturale che c'è intorno a queste cave un'area bellissima tenuta molto bene e che è importante è un polmone verde di quelli importanti anche per via della sua conformazione anche della sua modalità di gestione non è solamente un parco cittadino è un bosco è una zona umida è un ecosistema che serve ed è importante e fondamentale per tutta la città di Milano soprattutto per questa zona ma non solo quindi parco delle cave continuano le manovre di depurazione dell'acqua continuano appunto l'argine viene arginato appunto ci sono delle foto dove vediamo queste operazioni messe in sicurezza diciamo di quella parte di lago e una sorta di piccola diga fluttante che tiene appunto gli idrocarburi da una parte non li fa andare a contaminare tutto il resto del lago e delle altre cave appunto sta indagando comunque la polizia locale i rifiuti sono stati però confinati appunto in una caletta di questo specchio d'acqua nella periferia ovest di Milano questo è quello che succede al parco delle cave invece qui su cristian radio cosa succede? beh succede una cosa che succede spessissimo cioè ci ascoltiamo la bella musica l'ascoltiamo alle 8 e 46 minuti l'ascoltiamo qui su cristian radio qui a good morning Milano 331 78 535 555 il nostro muro di whatsapp qui pronto a ricevere i vostri messaggi e le vostre condivisioni a fra pochissimo dopo questa stupenda canzone perché sono i Dare Straits con Tunnel of Love 8 e 46 minuti good morning good morning Dare Straits Tunnel of Love prima di chiudere qualche informazione direttamente dal sito di ATM perché il tram 1 verso piazza 6 febbraio devia e salta le fermate da Repubblica a Domodossola e invece il tram 2 viaggia con qualche minuto di ritardo stesso destino per il bus della linea 70 che viaggia con qualche minuto di ritardo a causa di un incidente tra mezzi privati vi ricordo poi che il tram 9 e 10 fino al 6 di ottobre cambiano servizio dalle 9 alle 17.30 sono infatti in programma interventi di potatura sugli alberi in via Filzi comunque potete trovare maggiori informazioni sulle pagine del sito ATM e anche appunto gli aggiornamenti in tempo reale delle linee dei tram ricordo appunto ripeto tram 1 che verso piazza 6 febbraio devia e salta quindi le fermate da Repubblica a Domodossola e adesso non ci resta che dire sigla 8 e 54 minuti di lunedì 30 settembre siamo arrivati alla fine di questa puntata di Good Morning Milano grazie a tutti quelli che ci hanno ascoltato ci hanno seguito ci hanno anche guardato magari in diretta su YouTube ma soprattutto grazie anche a chi ci ha scritto al 331 7 8 5 3 5 5 5 5 dopo di noi il bravissimo Ambrogio Curti vi porta ad ascoltare la musica anzi a farvi sentire quella lì cioè in che senso sì sì senti questa alle 9 e 0 5 dopo di noi dopo il giornale radio qui su Crystal Radio c'è Ambrogio Curti senti questa la grande musica raccontata la raccontata tra le righe proprio tra le righe del pintagramma e invece se volete riascoltare la nostra puntata o riprendere i pezzi che vi siete persi nelle scorse puntate e riascoltare le interviste ai nostri ospiti c'è un sito facilissimo si scrive goodmorning.milano.it poi schiacciate invio e arrivate dove volete potete anche trovare tutto tutto quello che è sono le nostre rubriche tutto quello che ci raccontiamo ogni giorno qui in diretta su Crystal Radio le voci che avete sentito questa mattina sono quelle di Filippo Poletti di Fabio Ranfi qui con il microfono in regia è tornata a Ginevra che finalmente sta bene e Beatrice alla produzione e alla redazione grazie mille a tutti a domani mattina alle 7 qui in diretta ciao